Io auspico veramente in poco tempo, al massimo a settembre, di fare sulla città di Prato gli stati generali del centro-destra, mettersi tutti a un tavolino insieme anche alle liste civiche vicine al centro-destra, tutti i partiti di centro-destra e vedere se, e come auspico e sono certa, ci siano le condizioni di fare un programma unitario dove tutti come sempre ci siamo trovati e alla fine arrivare a una sintesi chi meglio può rappresentare questo programma che potrà essere scelto all'interno dei partiti o tramite una consultazione interna con i coordinamenti regionali oppure proprio con dei veri e propri sondaggi dove saranno i cittadini a indicarci la persona più giusta come rappresentante del centro-destra a sindaco.